ma una sorta di semidio, una via di mezzo tra umano e divino, una figura quindi ibrida, figlio di un'umana, penia, cioè povertà, assenza, insufficienza, quindi Eros è in parte uomo mortale, ignorante, che non conosce pienamente, e figlio anche di un dio, Poros, cioè ricchezza, ingenio, pertanto Eros è in parte un dio immortale, sapiente. Eros mancando quindi della completezza che ha un vero dio, desidera la bellezza e la sapienza di cui è privo. Quindi il vero amore per Platone è mancanza, cioè la ricerca ingegnosa e incessante di ciò che non si ha, e non si concretizza mai in qualcosa di effettivo e materiale, cioè in una conquista effettiva, altrimenti sarebbe ricchezza e possesso, altrimenti non sarebbe un semidio ma un dio. Quindi questa metafora che ha usato di Eros come semidio vuole spiegare questa assenza e mancanza, che viene continuamente ricercata. Quindi il vero amore deve restare spirituale, vano. Da qui il detto usato ancora oggi, amore platonico, per indicare quella forma di amore staccata dalla sessualità e quindi dal corpo e dall'amore fisico. E' quell'eterno ricercare, tendere verso qualcosa che non si ha. Ricorda molto l'amore di tipo romantico. C'è sempre nel convivio, scusate, nel convito, una nuova interpretazione del mito di Eros, che non è quella greca tradizionale, per cui Eros è figlio di Afrodite, dea dell'amore di Hermes, protettore degli eroi. Il mito di Eros si ricollega quindi al mito dell'uomo primitivo. Platone immagina che il primo uomo fosse Hermafrodita, androgino, composto sia da natura femminile, sia dalla natura maschile. E poi, a causa di una colpa degli dei, queste sue due nature furono divise. E così nacquero gli uomini e le donne. Quindi, nell'amore, nell'Eros, Platone vede questa ricerca della completezza perduta. L'uomo cerca di ricostituire il suo essere primitivo Hermafrodita, ricongiungendosi all'altra sua metà. L'atto sessuale, per Platone, è un impulso naturale dell'uomo che rivuole la sua unità originaria. Quindi, l'amore è pertanto desiderio costante di ciò che ci manca e di cui si ha bisogno. Ci dà anche una definizione di amore come forza cosmica, che determina l'armonia nell'universo. O anche desiderio di bellezza, sapienza e felicità. Quindi, il concetto di Eros è strettamente legato all'eudemonismo, ossia all'idea che il raggiungimento della felicità avviene solo mediante il bene. Infatti, la bellezza è l'oggetto, il fine dell'amore, che per bellezza dobbiamo intende il raggiungimento del bene, la contemplazione del bene. Come dicevo, nel Fedro, invece, che è un'opera posteriore rispetto al convito, Platone tratta l'elevazione progressiva dell'anima al mondo delle idee. Quindi, la sua aspirazione è la vera bellezza. Ci parla, quindi, di gradi diversi di bellezza che portano a gradi diversi dell'amore. Quindi, si tratta di un lento cammino di ascesi progressiva. Quindi, il desiderio dell'amore, quindi l'oggetto amato, è di per sé autarchico, autosufficiente, come un Dio, non necessita di nessun altro. Mentre chi ama, cioè l'innamorato, è dipendente dall'oggetto amato, non può fare a meno, non è sufficiente a se stesso. Chi ama cerca di colmare la sua mancanza e incompletezza, cercando la sua metà perduta. Ripeto, amore, bello, conoscenza, sono strettamente legati. Solo chi ha contemplato la totalità delle idee, quindi l'età di giustizia, di temperanza, di bene, di bellezza, una volta incarnata si può avere un ricordo pieno, attraverso un lavoro di ascesi faticoso e duro, conoscere pienamente. Le anime che meno hanno veduto, invece, non raggiungeranno mai questa conoscenza.